Smart working, una delle espressioni più utilizzate in questi ultimi sette mesi, ovvero dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo e nell'organizzazione del lavoro. Basta vedere alcuni semplici numeri. Nel 2019 i lavoratori che avevano accesso allo smart working erano 570 mila. Nel lockdown, ovvero dagli inizi di marzo, sono diventati 6 milioni, quindi oltre dieci volte tanto, gli smart worker. Nel post lockdown, quindi da giugno fino a oggi, i lavoratori in smart working sono 4 milioni. Quindi un fenomeno in continua evoluzione, in aumento, ma di che tipo di smart working stiamo parlando? Sì, perché la legge che regolamenta il lavoro agile è del 2017. Poi è stata messa in congelatore, in freezer, dalla normativa emergenziale, che ha cambiato una cosa fondamentale, ovvero per implementare un piano di smart working non è più necessario l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. Quindi una differenza fondamentale per cui si parla di smart working unilaterale o semplificato. Quindi diciamo che i purissi dello smart working del lavoro agile preferiscono, insomma, definire quello che è avvenuto soprattutto nei mesi del lockdown, home working o telelavoro. Ecco, ma fino a quando? Fino al 15 ottobre scorso, che segnava la fine del periodo emergenziale, che come tutti sappiamo è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021. Anche lo smart working unilaterale? No, lo smart working unilaterale o semplificato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020. Quindi vediamo questo fondamentale disallineamento tra la fine del periodo emergenziale e la fine dello smart working semplificato. Per cui cosa succederà dal 1 gennaio 2021? Si torna indietro, si torna alle origini e continuerà ad essere applicata la legge sul lavoro agile del 2017 di cui parlavamo prima. Per cui, differenza fondamentale, il datore di lavoro dovrà concordare con ogni singolo lavoratore il piano di smart working. Ecco, fin qui abbiamo visto appunto le principali novità normative che riguardano lo smart working, ma ora cerchiamo di andare oltre soprattutto grazie ai numerosi approfondimenti che abbiamo realizzato sia con le fonti tv, sia con la nostra rivista le fonti legal, interpellando i maggiori esperti e gli addetti ai lavori. Sì, perché quella che attende le imprese, diciamo tutto il tessuto imprenditoriale italiano, è una grandissima sfida e la sfida consiste nel non aspettare il 1 gennaio 2021 per mettere a punto dei piani strutturati di smart working, quindi non basarsi sulla normativa emergenziale. Perché? Perché lo smart working unilaterale, come abbiamo detto, manca di un tassello fondamentale, ovvero la flessibilità, la flessibilità che rende appunto lo smart working appetibile sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore alla ricerca di quell'equilibrio paretiano, definitiamolo così, tra la produttività del lavoratore e dell'impresa stessa e il benessere del dipendente. Ecco, quindi le imprese sono chiamate a mettere a punto i loro piani con i propri consuletti e molte, come sappiamo, lo stanno già facendo fin da adesso, guardando al futuro, per quanto possibile, per quanto sia, insomma, stia tornando, come tutti sappiamo, questa incredibile emergenza sanitaria, ma diciamo che è questa la sfida che hanno davanti le imprese. Il governo è davanti forse a una sfida ancora più importante che quella di modificare la legge sul lavoro agile. Sì, perché, come abbiamo detto, dal 1 gennaio 2021 si torna alle origini, si torna a quella legge del 2017, ma, come sappiamo, c'è stata una rivoluzione nel frattempo, da marzo fino a oggi, e la rivoluzione sta andando avanti e tornare alle origini non è possibile. Ecco, io vi ringrazio, ringrazio i nostri telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata di Liga al Corner su Le Fonti TV.